La CGL è a pieno sostegno del SILPA CGL, comparto sicurezza, noi come organizzazione ci siamo, anche in questa occasione abbiamo visto l'annuncio da parte del governo di risorse economiche per coloro che devono garantire la nostra sicurezza che immediatamente vengono tolte e nella riorganizzazione del comparto sicurezza anche lì il governo non ha dato risposte. Noi questa mattina siamo qui nella questura di Perugia, come nella questura di Terni, come in tutta Italia per dire al governo di mettere un occhio giusto rispetto a chi lavora per la nostra sicurezza.